Sì, dottor, lei ha detto che forse la fase tricolore era fuori nuovo. Sì, certo. Lo ha preso la posizione netta. La posizione netta l'ho presa e come? E non è quella che dici tu. Io sono su un piano diverso. Io lavoro per una città e per una visione di città per il futuro. Questo è il mio lavoro. Il resto è priorità 2, priorità 3. Io lavoro sulla priorità 1, che è la città. Signori, questo io sono dieci mesi che lo dico. Penso che oramai sia entrato in testa. Tutte le altre cose sono priorità diverse. Io lavoro per quella, ed è quella che conta. Costruire la grande città. Non vi parlo, perché io non parlo di questo discorso. Questo discorso non è il mio. Andatelo a chiedere a qualcun altro. No, signore, io non parlo di questi discorsi. Io parlo della città. Io lavoro per la città e la città è quella che sapete. Non vorrei insistere, se no me ne vado. Volete che vada via? No, è una questione solo di formalismo. Assolutamente. È formalismo, a me non interessa. Il nuovo regolamento per la... Dirà che cosa si fa. Altre domande? Chi le ha autorizzate? Altre domande? No, il bambino dice che è stato autorizzato. Altre domande? Avete altre domande? Se no me ne vado. E va veloci. Assolutamente io dico quello che so e cioè il fatto che io lavoro per una città che deve diventare la prima città del Mediterraneo con tutte le sue priorità di cose da fare che stiamo dimostrando. Chi dice che io non ho coraggio di prendere decisioni? Beh, ce l'avete sotto un naso le decisioni che abbiamo preso per cui non rispondo neanche a queste cose. Io prendo decisioni giuste nel momento giusto e questo è quello che sto facendo. e non ritorniamo su quell'argomento se no non rispondo. L'anno prossimo quindi, signor sindaco, andrà lei al... L'anno prossimo non so cosa succederà. Sicuramente io andrò a commemorare quello che ho fatto quest'anno. Signori, io sto su un piano... Per te, per me no. Io sto su un piano diverso. Altre domande? Altre domande? Avete altre domande? Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Cosa? Quella è un'offesa, non sto neanche a sentire le offese. Anzi, la considero un'offesa. Però è previsto già adesso nel regolamento.